Messi è la commovente lettera per la del Mondiale, la reazione di Dybala. È passato un mese dallo storico trionfo dell'Argentina al Mondiale in Qatar. Il 18 dicembre 2022 Messi e compagni alzavano al cielo la tanto agognata Coppa del Mondo dopo aver battuto i rigori la Francia di Descamps. Una vittoria che rimarrà nella storia e che gli argentini stanno ancora festeggiando. Tra questi anche lo stesso Messi, che ha messo in bacheca l'ultimo grande trofeo che mancava la sua collezione, ha voluto rendere omaggio ancora una volta a quella meravigliosa serata. Il capitano dell'Albi Celeste ha infatti pubblicato un lungo messaggio sui social. Apprezzato particolarmente anche da Paolo Dybala, che ha messo mi piace al postale. Messi è l'offerta immorale dall'Arabia, altro che Ronaldo. La cifra lascia tutti a bocca aperta la lettera di Messi, Dybala lascia un mi piace di seguito Ecco il messaggio scritto da Messi, uno dei mesi più belli del mondo e ancora non riesco a crederci. Che bella follia abbiamo vissuto durante tutto quel periodo, che è terminato con la Coppa che tutti desideravamo così tanto. Ovviamente, essere campioni rende tutto più bello, ma che bel mese è stato, con tanti bei ricordi che mi mancano. Mi mancano i miei compagni di squadra, il giorno per giorno con loro, i discorsi, gli allenamenti e le feste che abbiamo fatto. Com'è stato bello vedere la mia famiglia vivere un'esperienza indimenticabile per tutti e quanto è stato bello vedere la goia della gente in campo in Argentina. Grazie a Dio per questo. Come ho detto, sapevo che me lo avresti dato. Quello che non potevo immaginare era il dopo che l'avevo raggiunto e non mi sbagliavo. Perché non avrei mai potuto immaginare la follia delle persone nelle celebrazioni. Beh, siamo qui da un mese. Campioni del mondo.